Il meteo di Google dice pioggia, quello di meteo.it dice variabile, 3b meteo, si lancia in una previsione di poco nuvoloso, il meteo.net ondeggia tra il variabile, nubi sparse e poco nuvoloso. E infine Arpave, il sito meteo della regione Veneto, ha un'allerta meteo in home page che annuncia fenomeni anche intensi. La domanda è all'apparenza semplice ed è che tempo farà oggi? È quella a cui fin dal mattino cercano di rispondere esperti veri o presunti di ogni tipo. L'era del colonnello Bernacca è finita. Oggi, tra meteorine e anchorman delle previsioni meteo, capire la risposta non è semplice. Eppure sul meteo si investono fior di capitali, perché da quelle previsioni dipendono moltissime cose, dall'agricoltura agli spettacoli all'aperto, passando anche dalle prenotazioni alberghiere. La polemica che ad ogni avvio d'estate contrappone albergatori e previsori sta per concretizzarsi in un esposto alla magistratura, una class action in cui si chiederanno i danni patiti a causa di previsioni meteo sbagliate. L'appaventata e il governatore Zaia valutano le idee agli albergatori ed è il caso di dire scottati dall'esperienza del 25 aprile, quando sono piovute solo disdette, visto che il meteo dava pioggia, mentre in spiaggia c'erano 25 gradi e passa. Un'azione solo minacciata per ora, con l'intento di convincere i meteorologi almeno a prestare maggiore attenzione alle immagini scelte per visualizzare la previsione meteo e in caso di incertezza evitare le gocce di pioggia che allontanano i turisti dalle mete di vacanza. Difficile immaginare che qualcuno possa mettere la questione meteo sul banco degli imputati. Senza scomodare i cambiamenti climatici in corso, basta citare qualche proverbio popolare tra marzo Pazzerello ed aprile suo fratello per riportare ogni polemica al giusto posto. La solita, bellissima e sfuggente primavera.